Ne sono convinto, penso che il progetto può motivarli moltissimo, anche perché mi sembra che c'è un modo diverso di parlare di argomenti che sono di interesse comune, un modo diverso di comunicare delle logiche di progetto, per esempio, loro sono ragazzi che devono conoscere come si conduce un'azienda, questo è l'obiettivo professionale, e mi sembra che poter fare in questo modo un corso in maniera non ingessata, in maniera nuova, sia effettivamente una grande opportunità per loro. Del resto, già nell'incontro di oggi, mi sembra che si coglieva questo loro interesse, perché una classe come la loro è stata molto attenta, molto partecipe, e questo mi sembra già un risultato molto positivo.